pace a tutti fratelli sorelle amici cari buon venerdì grazie a dio per come possiamo iniziare questo giorno per come possiamo rivolgere il nostro sguardo alla parola di dio quello che per noi è quasi normale per tanti non lo è perché vi sono nazioni dove la parola di dio è vietata vi sono nazioni dove ancora la parola di dio non è stata tradotta popoli che non sono a conoscenza del messaggio dell'evangelo noi dobbiamo essere sempre grati a dio per come ci ha concesso il privilegio di avere a casa nostra una copia della bibbia e di come la possiamo meditare ogni giorno e dobbiamo pregare se ne abbiamo le possibilità anche sostenere coloro che cercano di portare questo messaggio a quanti ancora non lo conoscono noi stamattina ci soffermeremo con l'aiuto di dio sulle pistole ai filippesi al capitolo 3 i primi 14 versi ma nel leggere e nel meditare questa parola vogliamo tenere bene in mente che quanto stiamo facendo seppur un'abitudine una è un privilegio e il nostro cuore deve essere veramente grato a dio ancora questa mattina l'apostolo paolo in questo capitolo vuole evidenziare la necessità di continuare il cammino della fede avendo la propria fiducia non sulle proprie capacità su quello che si è ma su cristo gesù e sul suo sacrificio paolo dice fratelli rallegratevi rallegratevi nel signore e credo che ancora stamattina ci dobbiamo rallegrare nel signore paolo lo scrive da una prigione quanto più noi possiamo dirlo stamattina grazie a dio per la gioia della salvezza che ha messo in noi e grazie a dio per come sta provvedendo giorno per giorno alle nostre necessità grazie a dio per come nelle prove ci sta dando la forza rallegriamoci perché è un motivo di gioia appartenere al signore al corpo di cristo che è la sua chiesa sulla faccia di questa terra e se da una parte l'apostolo paolo dice che bisogna rallegrarsi dall'altra parte dice che bisogna però stare attenti attenti a coloro che cercano di mutare la fede in meri adempimenti religiosi che non vengono incontro al desiderio di dio di avere una relazione con noi ma che hanno lo scopo soltanto di renderci schiavi di regole e principi umani che anziché avvicinarci ci allontanano dal signore metodi che sono portati avanti da persone che sono definite come cattivi operai e dio ci dia grazia di stare attenti ancora oggi e soprattutto oggi perché negli ultimi tempi lo dice la parola di dio e dell'apostolo paolo a scriverlo a timotio verranno tempi difficili e di cattivi operai di lupi travestiti da pecore di uomini e di donne che cercheranno di raggirare i credenti ce ne saranno tanti noi vogliamo con l'aiuto del signore chiedere a dio ogni giorno luce intelligenza discernimento per non cadere nelle trappole nelle insidie di questi mercenari che non sono al servizio di dio ma sono al servizio di se stessi e senza accorgersene oppure ben sapendolo sono al servizio del principe di questo mondo di satana colui che vuole distruggere la vita dell'uomo per trascinare l'anima sua nello stagna ardente di zolfo e di fuoco paolo dice che lui stesso avrebbe potuto vantarsi della propria religiosità e questo sia per quello che lui era per discendenza sia per quello che lui aveva fatto durante la sua vita egli infatti dice che era della razza di israele che era stato circonciso l'ottavo giorno che era ebreo figli di ebrei di ebrei che era fariseo che era zelante nella legge del signore che era irreprensibile nel rispettare quanto era stabilito dalla tradizione rabbinica ma tutto questo dice l'apostolo paolo tutto questo è qualcosa a cui lui ha rinunciato e lo considerava infatti un danno dinanzi alla fede in cristo gesù che lo chiamava liberarsi di tutte quelle cose per seguire una nuova via la via tracciata dal maestro per eccellenza vale a dire dal figlio di dio addirittura paolo le definisce come un danno quindi come qualcosa di che erano un ostacolo allo sviluppo della sua fede e del suo ministerio definisce queste cose spazzatura qualcosa di cui c'è bisogna sbarazzarsi perché porta soltanto cattivo odore nella vita di coloro che li accolgono paolo dice io voglio essere trovato non con una giustizia mia che deriva dalla legge ma con quella che sia mediante la fede in cristo gesù cioè la giustizia che viene da dio il signore ci aiuti ancora noi a ricercare questo tipo di giustizia nella nostra vita è vero dobbiamo fare il bene è vero dobbiamo sforzarci di osservare la parola di dio perché chi non ha questi sentimenti non può pensare di ereditare la vita eterna ma ricordiamoci che in tutto questo noi saremo salvati solo per la grazia mediante la fede e potremo ricevere la vita eterna solo perché avremo accettato gesù cristo quale nostro personale salvatore tutte le regole stabilite delle religioni possono avere una parvenza di devozione ma nella realtà ciò che conta è essere una nuova creatura in cristo gesù nicodemo disse il signore se tu non nasci di nuovo non potrai vedere non potrai entrare nel regno di dio ecco questo è il punto di partenza poi tutto il resto ha un valore se siamo nati di nuovo e quello che paolo in pratica sta dicendo non è quindi che la legge abolita o che i comandamenti non debbono essere rispettati ma che tutto questo serve a nulla se non è accompagnato o meglio ancora preceduto dalla nuova nascita e dall'aver accettato cristo nella propria vita perciò la prima domanda la più importante che ognuno di noi si deve fare ho confessato i miei peccati a dio ho chiesto perdono al signore ho invocato il sangue di gesù quale unico mezzo di salvezza per l'anima mia se non l'hai fatto fallo stamattina ora non perdere altro tempo anzi metti pausa a questa breve meditazione vai sulle tue ginocchia e invoca il signore se lo hai già fatto ora devi mettere in pratica il consiglio della parola di dio devi osservare la legge morale di dio e devi chiedere aiuto al signore di praticare la misericordia la giustizia la compassione e tutto il resto che la bibbia insegna paolo conclude dicendo che il suo desiderio è quello di protendersi avanti sa che malgrado i suoi sforzi egli non è ancora arrivato alla perfezione ma sa che a quella perfezione deve mirare e proprio per questo dice dimentico dimentico tutto quello che mi sta dietro i i miei peccati ma anche le le mie vittorie in cristo e mi protendo avanti cerco di poter afferrare la vita eterna e voglio guardare a quel traguardo considerandolo come il mio obiettivo fisso ecco che stamattina ognuno di noi possa protendersi avanti per poter continuare la scalata verso il cielo in modo da poter ereditare la vita eterna in un cimitero della svizzera c'è un epitaffio sulla lapide di un alpinista è morto salendo perché questo alpinista mentre stava svolgendo le sue attività di scalata perse la vita e un predicatore disse questo è quello che di ogni credente si deve poter un giorno dire è morto salendo scalando il monte di dio il monte calvario e dio ci dia grazie ancora oggi di continuare questa salita per raggiungere la cima e la cima è la perfezione di cristo gesù affinché anche noi possiamo arrivare a dire non sono più che vivo ma è cristo che vive in me coraggio fratelli e sorelle andiamo avanti onorando il signore dando il nostro cuore a lui e ancora in questo giorno la sua grazia la sua forza il suo aiuto e suo sostegno siano con tutti quanti noi pace del signore